dalle udienze e dalle attività giudiziarie proclamata dalla Camera Penale di Taranto nei prossimi 11, 12 e 13 aprile, l'iniziativa dei difensori di astenersi dalle udienze appare senza precedenti, così si legge, grave e pretestuosa, anche perché riguarda non già tematiche generali ma un singolo processo. Incomprensibile appare tale iniziativa, soprattutto in un processo di assoluta rilevanza sociale come quello ILVA, particolarmente complesso per il numero delle parti, delle imputazioni e dei testimoni da ascoltare, circa mille, tanto che venne autorizzata dal Presidente del Tribunale la celebrazione di un numero di udienze sino a cinque a settimana, onde garantire la ragionevole durata del processo, in ossequio al noto principio costituzionale. Sempre secondo ANM non sembra che le due o al massimo le tre udienze fissate dalle corte d'assise Tarantina possano incidere negativamente sul diritto di difesa. E poi si evidenzia nel comunicato stampa che il dialogo e il confronto tra magistratura ed avvocatura, di cui vi accenno nel verbale dell'Assemblea della Camera Penale Tarantina, era già in corso con la diretta partecipazione di questa giunta nella persona del Presidente. Si auspica infine, si legge nel comunicato a firma del segretario Piero Lisi e del Presidente Maurizio Sasso che l'iniziativa della Camera Penale Tarantina resti isolata e ad essa faccia seguito la ripresa di un dialogo sereno e davvero costruttivo che assicuri la necessaria e celebrazione di tutti i processi in corso nell'interesse della giustizia di cui i difensori sono coprotagonisti. Grazie a tutti.